Attivo unitario di Flai CGL, Fai CISL, Willowill regionali in merito all'avvertenza riguardante il settore della forestazione e alla necessità di nuove politiche finanziarie e misure per la tutela del patrimonio forestale e della montagna. Al termine dei lavori si è deciso di avviare una fase di mobilitazione con un piano straordinario di assemblee che culminerà negli attivi unitari del 5 maggio e che si concluderà il 12 con una forte mobilitazione presso la cittadella regionale. È nevralgico, dicono i sindacati, rimettere al centro della discussione e del confronto con le istituzioni regionali i temi della forestazione calabrese. La fragilità della regione dal punto di vista idrogeologico, gli oltre i 650 mila ettari di superficie boscata e il patrimonio paesaggistico necessitano di investimenti e programmazione per la messa in sicurezza delle comunità e del territorio. È necessario avviare un immediato ricambio generazionale nel settore forestale calabrese, considerata la costante riduzione del personale e progressivo invecchiamento della mano d'opera, poco più di 4 mila addetti, e inoltre prevedere un piano straordinario di rimboschimento e prevenzione del territorio. Chiediamo un impegno concreto per la tutela dell'ambiente, per come previsto dal protocollo di Kyoto, oltre che dagli orientamenti europei e nazionali con il Next Generation LPNRR, che attribuiscono alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la loro capacità di fissazione del carbonio e di produzione di energie alternative a quelle fossili.